Allora, stasera, come ci aspettavamo, come preventivato, abbiamo affrontato una gara tutto tranne che facile, tutto tranne che scontata. Sapevamo che ci fosse da faticare, da sudare, da lottare, dal primo all'ultimo punto e in effetti è stato così, si è verificato un attimino le aspettative da questo punto di vista. Abbiamo fatto una prima fase di gara, i primi due set, dove nonostante comunque abbiamo lottato, siamo riusciti a tenere un discreto livello e alla fine abbiamo chiuso i primi due set, non in modo agevole, però comunque a parer mio meritatamente. Il terzo set, come mi aspettavo, abbiamo avuto un attimo di calo, di concentrazione, poi abbiamo qualche acciacco fisico in squadra, comunque dovuto un po' a questo tour de force di questo mese e mezzo di gare, una dopo l'altra, poter recuperare la forma fisica piena è veramente molto difficile, quindi era abbastanza comprensibile che ci fosse un po' di calo fisico e quindi poi di conseguenza attentivo. Infatti abbiamo perso il terzo set. Abbiamo comunque reagito bene, la squadra è partita dal quarto set molto decisa, molto aggressiva, molto grintosa, devo fare i complimenti perché perdendo il terzo set così non era affatto scontato, invece siete molto brave. Come mi aspettavo, anche il quarto c'era da lottare punto a punto, infatti siamo arrivati a 25-23. Che dire, la cosa importante stasera a parer mio era portare a casa i tre punti, vista un po' la situazione in cui siamo in questo periodo di difficoltà e ancora un attimino da uscire da quella situazione che ci ha fermato un mese e mezzo fa. Quindi brave, portare a casa il risultato, sicuramente abbiamo peccato un po', un po' poca lucidità in attacco, in certe situazioni ci siamo incaponiti su certi colpi che potevano tranquillamente variare, ancora fatica a trovare continuità al servizio a parte certi momenti. Per il resto comunque dai, mi ritengo soddisfatto della prestazione e adesso domani ci aspetta riposo e poi pensiamo alla prossima partita.